Niente più stracci al vento. Il monumentale stato d'abbandono di Villa Marina su Viale Trieste in questi giorni viene coperto dai maxiteli di Pesaro, capitale della cultura 2024. Un'operazione di copertura di ponteggi già sperimentata in Piazza del Popolo, sul cantiere del Palazzo dell'ex Intendenza di Finanza, così come alla stazione ferroviaria. Ma se in questi due casi sotto i teli fervono lavori in corso di riqualificazione dei due immobili, per il vecchio Istituto Postelegrafonici del Lungomare il discorso è ben diverso. La struttura versi in un abbandono decennale, ma nell'anno di Grazia 2024 si tenta di dare una parvenza di decoro all'altrimenti poco gratificante cartolina su Viale Trieste. I pannelli stanno coprendo le facciate sul Viale, ma lasceranno scoperte quelle sulla spiaggia. Sulla facciata al lato sud del Viale si farà ancora di più, installando successivamente un pannello artistico che ripercorrerà la storia dell'ex colonia estiva del ventennio fascista. Alla forma però si vuole aggiungere sostanza con l'Inps, proprietaria della struttura, che si sta organizzando per una nuova gara che proceda alla messa in vendita all'asta dell'immobile entro l'estate. L'idea, già esternata dall'Inps da un anno a questa parte, è quella di realizzare una destinazione residenziale per anziani con una macchina sinergica fra istituto, amministrazione comunale e imprenditoria già attivatasi in questa direzione.